aspetta adesso ok ho spudato lì schifo più views faccio per voi mia palla dentro palla ciaone ciaone ahahah ti pulisco ma sta succedendo di tutti i colori no ok ok guarda è più bello l'inizio di tutta la cena vale tutta la cena che ti stai a ridere eh eh shit tu cosa fai non dico per i tuoi follower su instagram eh c'hai già i follower no ah shhh aspida anche via 1 2 3 no arriva 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 guarda che cosa ho dai arriva no dai mamma non è successo niente stiamo usando il track non viene al tavolo allora metti brava dai dai metti più views metti la mano metti la mano sto recil non vede pure la niente se stai recilentando ma no tu devi stare in silenzio perchè sennò te ne vai di la shish ti ha mandato tipo la bule dare stavo cadendo veramente più views no dai iniziamo veramente iniziamo si manda un tuo pelle tu rubi ahahah vabbè ahahah no dai via ahahah ahahah ciò non è che mi ha dato un sos e te che stai a riprende no no ah ti fai un selfie piccoli youtuber crescono ma cosa fai ringro? cosa facciamo? va bene appena detto la cia di cosa fai? non lo sai no spui vabbè facciamo la pizza challenge uè che andava asciutto grazie uè una bella fila di piscia anche a me ecco capito dai che inizia sai che simone ci capisce quindi non va bene dai unice vediamo cosa esce guarda più tremante di quando prima le bustine di pokemon cioccolato cioccolato non abbiamo spiegato neanche cosa aspetta rifacciamo rifacciamo tutto da capo ciaoone a tutti e a tutte cioccolato si ma un po' di euforia un po' di a tutti ciaoone sono veramente sono veramente euforico cosa vogliamo fare vabbè dai facciamo la pizza challenge come si fa che ti riceverà che ti riceverà vabbè pesca 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 Ma mi stai facendo le dirette a tutti Il bello della diretta Stavo per scrivere Stavo per leggere Mirticci Mortacci tu Mirtilli, metti Mirtilli sopra la pizza Vai Ma la mia? No, non tu, devi metterli tu sopra la tua Comunque noi mangiamo una fetta invece di un'intera pizza Ma da dici comunque più views Perché ce li meritiamo Guarda che Oh che bello Chi gnocca No dai Laurier Che schife Jurassic Park Cosa fai? Grazie mamma pulisci Unissimo Unissimo Adesso tocca a castigami Vale Guarda questa immagine è perfetta Come una miniatura Anche perchè sembriamo le tre varie Sai Sì Aspetta Qua in editing dovrei mettere qualche effetto Ciao Cazza messicana Vai Weee Weee A tema dell'altro video Perchè? Se avete visto Non l'ho visto Bravo Quale video? Intulce ritorno Ahhhh Chi ha deciso il titolo? La marmellata di pesche Iniziamo già bene Pesche Marmellosa Brava nonna Spanna la tua marmellata Ma devo metterla tutta Tutto un basetto? Si possono fare E me li credi No Lo togli vero? Si lo censuro Lo taglio O sennò ti taglio le dita Il karma Guarda Che buono Ehm Che buono Eh Guarda Come rovinare una pizza in 5 secondi No Questa sarà sicuramente intima A me piace Vai 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 Avete già spescato e tutto Avete pescato le varie Pesche Fingos Capitano Fingos Comunque scusa nonna Assunta Se stai guardando questo video Per il riferimento Perchè? Delle tre mariere Perchè? Guarda perchè Sono brava A differenza tua Non ci sono riferimenti Nella religione Wasabi Non riesco ad aprire molto Vabbè è buono È un piccante Ma soltanto andare molto In digestione Arrivo Allora mamma Cosa ha il Ciccino? Vuoi rimettere dentro Per cena Guarda Guarda Altro che Carlo Cracco C'è Ma lo mette dentro Un mix Un po' messicano Un po' giapponese Farò finta che sia Spaghetti di pistaccia E' messo tutto E' ancora finito E' ancora finito Buono Vai Pizza almeno è cotta con te No? Adoro Poi E' conto A riga Ketchup Tutte salsi Ma la mia è la più buona Ma si la mia è la pesca Dai io ho messo il mio ketchup Anche solo maionese Anche solo maionese Fai la salsa rosa Se non capita No anche la salsa rosa Andiamo avanti Ma non abbiamo più mischiati Cos'è? Ma spenni sto Tutta salutare Tutta frutta Carlottina Tutta frutta Tutta frutta Carlottina Tutta frutta Vai Sì? Carlotta si rompono le sedie? Eh, è Alice Ma non è vero Ma non è vero Non sono io Ma è vero Perfetto Ok no ti dico la verità Sono stata io Anche quando litighiamo Fai così Come Ora Vai Toccate Telecamera Telecamera Abbiamo messo i miei dili Venti qua Toccate Fesca Cosa devo fare? Pesca Ah! Un'altra stavo già mangià Mi viene fame Mi viene fame Mi contro te Mi contro te Ti introte Cos'è? Cos'è? No placement No placement Vai vai No pla... Che buona La pizza ai bigliettini Guarda La penitenza più grande E la pizza ai bigliettini C'erano una per te Pizza di carta Altri casa di carta C'erano una sotto la ciabatta C'erano Marmellosa Marmellosa Di pesche Pesche Ma cos'era marmellata? Marmellata Marmellosa è per i poveri No Abbiamo preso la marmellosa Che costava meno Ah vabbè ci godo Perché anche tu ce l'hai eh Che buona Questa è la più buona di tutti Tanto i miei capelli si goffiano sempre di più I baglianese I baglianese I baglianese La venezia Chiudi la veneziana Firtili Eh? Proprio Però dobbiamo mangiarla tutta la fettola No no Si si Amma Vai la veri tocca a te Adesso la mangio? No C'è solo tutto eh Mi raccomando Pesca una pesca dai E' più lavoro al pane Panna di stella Panna di stella Guarda sono due ca Magia Alla telecamera Vengono i biscotti Wow Cos'è? Buona Ammazza che buona Eh non ho mangiato a lei Visto che è così buona Guarda Ti diamo un bonus Tutti i like Tutti i like per allettina Prosciutto Le prosciutto Ma ti sei io Stira le capelle a posta per il video? Ma no Non fosse io Però sarei il re leone Ma anche quando sei a casa? Anche quando sei a casa? No a casa sono il re leone Perché sono il re della casa No quando sei a casa Sono i segreti delle youtuber Loro prima di fare le capelle Anche il mio gatto si stira Vai Cadi Vai Vai elettrina Mi spiace raga Oreo 20 like Solo 20 like Non 25 solo perché Il rete non è caduto Allora ti ho boccato No aspetta che cazzo Guarda se non te gli stiamo Oreo Oreo Rispondo Sono Jack Alleluia Buona tutetta Perché faccio il gioco Una cena No una ciale Limone Limone Te lo sto limone Come si apre? Ma che ne so Ma Se stai male non è colpa mia Ma tu stai male di mente Di solito sono io quella che faccio le cose pazze Che amuse Guardatela Sta a morire C'è pure la barretta Molto salutare Ma prima si è vista la mamma a passare Sì Berretta Sì però tutti ne vogliono una fetta Che schifo Aaaaaaah Fetta Ma abbiamo scritte marshmallow Tu le hai scritti No Anch'io Ora possiamo fare la chubby bunny challenge Ah ok già C'è che ci siamo dai eh No ma aspetta Io ho pescato marshmallow No ma anch'io Masticato La peperina Vuoi uno? Te ne danno due Non ne vuoi una? Te ne danno due di marshmallow Perché lo vuoi rompere? E' mozzarella alternativa questo Senta te canna Guarda canna vasciolo E' finita la barretta La mozzarella di bufala Contemporanea Si ma un tuovaiolo a me no Io che sbriciolo sempre come la bambina come Alice Vuoi che non sapete chi è Alice? Alice? Non è Alice nel paese dei meravigli Alice è quella la Comunque io sono vegana Se questa è mozzarella alternativa Questa è carne alternativa Quindi devi toglierla Non sei sporca in testa Io direi che hanno usato tutti No Sporca in testa? No no Non lì Le Il fruma Ho ruzza Si Più su Ma non in testa sulla fronte Ma non in testa sulla fronte Vabbè, non si spreca, allora mettilo. Ma secondo me è buonissimo. Oreo. Qua. Ciao, tu sei la mia parrucchiera. Andrò sempre. Sempre c'è leone. Se non faccio la piastra, è ancora peggio. Oreo. Comunque tanti pensano che io sono umana. Dai. Ma che state a dire? Ma davvero? Sono sexy, vero? Mi cade. Facciamo il bot. Mi cade, facciamo il mio. Il selfie in un selfie. Vai, il selfie amore. No, dai. Ah, brucia. Io la metto a sapere così. Devi togliere dal selfie. Vai, cookie mamma. È la spallina. La spallina. Ah, comunque parliamo del fatto che su Instagram ti sei chiamata Carlottina. È. Carlottina. Carlottina. Ma cos'è? Carotina. Carotina. Carotina.it Un po' di zucchero. Pirro. Va giù. Tutto brilla. Tutto sorriso brilla. Tadda tagli tutto. Tagliamo anche la pizza. Oggi su Masterchef avremo tre chef. Bruno Barberi. Guarda. Gioa Bastianici e Alessandro Borghese. Cosa sciudi... Che sono io? Alessandro Borghese. Beh, modesto su Alessandro. Di cibo. La più buona secondo me è quella di Lauri. La luce se n'è andata quel paese. Io ho sceggetto le riepi fa già schifo. Mettetevi qua. Che non si è sta a vedere. Ma mi fa schifo. Io non la mangio stacca. Non so regretta questo, ma questo al minso è buono. Foto, mettiti in posa per la foto Vabbè, adesso questa 1, 2, 3 Sì, tutti a laure Ti giuro, la mia pizza senza questo è buono Ah, non ti preoccupi anche se mi sporco i capelli Pizze, mangiati la mia Ciu, smake one Vai Ciu Grazie, ciu, oreo, smake one Barretta È buono È buono Così figa C'è, questa è la pelle natura che si fa in classe Sembra il zucchino O te la metto Ti scelgo di dietro Invece, invece della torta, questa è la torta alternativa È dell'OVS No, vabbè, c'è il prosciutto No, guarda Guarda che del regalo Cioè, se tu la vedi così, sembra anche buona Ah, spero No È buona No davvero È lo spreco No, guarda che del regalo No, guarda che del regalo Grazie a tutti.